Make the Difference aiuta i giovani a credere in se stessi e a compiere le proprie scelte. Ho scelto Make the Difference perché valorizza molto i giovani, gli adolescenti, li fa crescere ed essendo vissuto in una realtà in alcune scuole di zone non bellissime so benissimo quanto questa cosa possa fare la differenza.